... ... ... ... tesoro ascoltami una cosa allora qui praticamente cosa devi fare quando io ti chiamerei un numero tu devi mettere il numero a qualche casella Ti piace il 29, ti piace il 29? Dipende, che battuta, questa ragazza fa un te battuta, no ma cara, tutta che ha un soggettrezzo, allora, qui metti il 29 qui sopra. Andiamo a seguire il primo email. Allora, cananana, voglio sempre che in casa mia ci sono tanti uomini nudi che mi girano intorno. Guarda, Clara, significa che tu stai vivendo un momento di grido interiore e sei sempre molto combattuta. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano. Gioca 12 uomini e 11 là dopo, perché se ne toccano.